Salute mentale, l'altra faccia della pandemia, con il professor Massimo Di Gian Antonio, ordinario di psichiatria e direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università d'Annunzio, nonché direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti. Ieri sera in pronto Medicina Facile, la trasmissione curata e condotta da Paolo Castignani con Gigliole Edmundo, lo specialista ha messo in evidenza quanto la pandemia abbia eroso il benessere mentale delle persone, messo a dura prova anche e soprattutto dalla guerra in Ucraina. E a proposito, rispondendo a una delle tante telefonate di un telespettatore preoccupato per la moglie, particolarmente toccata dalle scene di guerra in Ucraina. È un tema molto delicato, è un tema molto importante perché le atrocità che vediamo tutti i giorni sugli schermi televisivi danno una quota di stress, una quota di preoccupazione, una quota di sofferenza e di dolore che le persone che sono particolarmente sensibili, particolarmente attente hanno delle risonanze interiori assolutamente distruttive. Sua moglie è una persona molto sensibile, è una persona molto attenta alla sofferenza degli altri, soprattutto i bambini e soprattutto le donne che devono fuggire e quindi ha delle enormi risonanze interne e allora la risposta gliela do immediatamente. La medicina è la solidarietà, è la vicinanza, l'aiutare il prossimo. Abbiamo in queste ore con il direttore generale della mia azienda sanitaria locale costituito un comitato di accoglienza per tutti i profughi ucraini, ne sono già arrivati più di 300, ci stiamo occupando di trovare luoghi per farli abitare, luoghi dove poterli vaccinare, luoghi dove poter introdurre questi bambini e queste mamme dentro il circuito scolastico, dentro il circuito sociale e allora la risposta è avviciniamoci ai centri della municipalità, avviciniamoci ai chierenti della protezione civile, diamo il nostro tempo poco, medio o tanto che sia per stare vicini e fornire il nostro contributo. diventerà una medicina straordinariamente efficace perché sua moglie si metterà nelle condizioni aiutando gli altri di aiutare se stessa.